Allora, innanzitutto l'impostazione non mi piace assai come si affrontano temi molto seri, ma lasciamo perdere l'entrata che mi fate fare. Io non sono una no-vax, già questa è una offesa, è anche mio marito che è medico, sospeso, che non si fa trattare con una sostanza di cui l'EMA, l'autorità europea del farmaco, nel suo assessment report, cioè dovete sapere che nelle procedure di autorizzazione condizionata per un anno di queste sostanze, l'EMA deve appunto depositare delle relazioni di valutazione. In questi assessment report che ogni spettatore può trovare in internet mettendo appunto il nome della rispettiva sostanza come Comirnathe di Pfizer-BioNTech, piuttosto di Pfizer-BioNTech, se mi fa spiegare per favore perché io difendo sanità e perché ci sono per esempio anche tantissimi farmacisti in Alto Adige e in altre regioni che non si fanno trattare con queste sostanze, forse ci capiamo meglio, perché non stiamo parlando di normali vaccini. In realtà non stiamo parlando di vaccini. Allora l'EMA in questi assessment report dichiara non sappiamo se queste sostanze sono capaci di interrompere la catena di infezione. E appunto nel frattempo abbiamo visto che anche con la seconda e adesso persino con la terza dose la gente si amara nel Covid-19. Queste sostanze sono state fin dall'inizio autorizzate non per la prevenzione dell'infezione con il virus ma per evitare lo sviluppo di malattie e della malattia grave. La missione televisiva dovrebbe rappresentare il pensiero. Perché i vaccini hanno... Allora, lei non si permetta di... No, lei non si permette di valutare il mio marisco che non è conto i vaccini ma che evidentemente ha letto la documentazione dell'EMA e lei invece... Allora, lei non si permette di valutare il mio marisco.